Ciao a tutti, in questo video voglio fare un appello accorato alle aziende nucleari di tutto il mondo. Vi prego, basta reattori nucleari più sicuri. Non sto provocando, sono assolutamente serio e in questo video dimostrerò come ogni investimento in sicurezza nucleare ulteriore, in questo momento, sia assolutamente sbagliato. Partiamo da un fatto. Oggi i reattori di terza generazione avanzata hanno una core damage frequency stimata tra i 10 alla meno 6 e i 10 alla meno 7 eventi all'anno. Questo vuol dire un evento ogni milione o ogni 10 milioni di anni reattore. I large radiation release, quindi i rilasci di radiazioni significativi nell'ambiente esterno all'impianto, avvengono con una frequenza ancora inferiore, di 1 o 2 ordini di grandezza. Quindi stiamo parlando di 10 alla meno 8 eventi all'anno, un evento ogni 100 milioni di anni reattore. 100 milioni di anni fa c'erano ancora i dinosauri sulla Terra. Se moltiplichiamo questo numero per 5 mila reattori, cioè tutti quelli che servirebbero a fornire il 100% del fabbisogno energetico umano, non solo l'elettricità, proprio tutta l'energia, otteniamo un evento ogni 20 mila anni, cioè più o meno 20 mila anni fa c'erano ancora i Neandertal sulla Terra. Ora noi però supponiamo di esserci sbagliati, supponiamo di aver fatto male i conti, supponiamo che la frequenza sia 10 volte più elevata, quindi un evento ogni 2 mila anni per 5 mila reattori. Supponiamo anche che ogni significativo rilascio di radiazioni comporti necessariamente una mortalità elevata, dell'ordine di 4 mila morti. 4 mila morti è la stima peggiore per le vittime dell'incidente di Chernobyl, ma noi sappiamo che un large radiation release non comporta per forza quei numeri. Ad esempio a Fukushima c'è stato un large radiation release e i morti sono stati zero, però noi come al solito facciamo molte concessioni a chi è contrario al nucleare, prendiamo per buoni alcuni dei loro numeri. Supponiamo quindi che ogni 2 mila anni ci sia un incidente con 4 mila vittime, questo significa statisticamente due vittime all'anno, fornendo tutta l'energia al mondo con solo i reattori nucleari. Badate bene, oggi i morti dovuti alle fonti energetiche sono nell'ordine dei milioni all'anno, causate principalmente dall'inquinamento delle fonti fossili. Abbiamo quindi una media di due vittime all'anno su tutti i reattori, che diviso per il numero di reattori fa un interessante 0,0004 vittime per anno per reattore. Ora facciamo qualche assunzione, supponiamo che sia possibile, con solo un 5% in più di spesa, costruire un reattore perfettamente sicuro, assolutamente sicuro, è matematicamente e fisicamente impossibile che questo reattore causi un incidente con vittime umane. Che cosa succederebbe? Beh, ovviamente non avremmo questi morti perché il reattore è assolutamente sicuro, però allo stesso tempo ogni 21 reattori che avremmo potuto costruire di terza generazione avanzata, ne possiamo costruire solo 20 di quelli super sicuri, perché costano il 5% in più, supponendo che il budget sia lo stesso. Bene, che cosa succederebbe? Ovviamente se io ho 21 reattori di terza generazione avanzata, la mortalità attesa sarà di 0,009 morti per anno. Arrotondiamo a 0,01 morti per anno, o se preferite un morto per secolo. Ovviamente costruendo reattori super sicuri questi morti si evitano, ma il ventunesimo reattore io dovrò sostituirlo con delle altre fonti di energia. Supponendo un reattore standard da 1 gigawatt, quel reattore produrrà 8 terawattora di energia all'anno, che vuol dire 800 in un secolo. supponendo che sia possibile compensare la mancanza di questo reattore unicamente con energia solare, che è quella con la mortalità più bassa di tutte assieme al nucleare, beh, otterremmo il solare a una mortalità di 0,02 morti per terawattora, moltiplicato per 800 terawattora, i morti in un secolo sarebbero 16, ovvero il 1600% in più che costruendo reattori meno sicuri, ma spendendo meno. Ovviamente si possono fare delle obiezioni a questo mio calcolo. Prima obiezione, il conto io l'ho fatto supponendo una parità di budget, ma si può dire, beh, se ci fossero davvero dei reattori super sicuri, 100% sicuri, probabilmente gli stati, o anche i privati, sarebbero più disposti a spendere in questa tecnologia, e quindi ci sarebbe un budget maggiore. È vero, ma anche in questo caso sarebbe sbagliato, perché supponendo di spendere un onesto 5.000 euro per kilowatt, quindi siamo sui 5 miliardi per un reattore da un gigawatt, noi staremmo parlando di spendere 5 miliardi, quindi un reattore in più, l'equivalente di un reattore in più, per salvare una vita umana per secolo. Pensateci bene, con quei 5 miliardi spesi letteralmente in qualunque altra cosa, si sarebbero potute salvare molte più vite umane, anche allocare ulteriore budget in reattori più sicuri da parte dello Stato o da parte dei privati, è sbagliato, letteralmente, qualsiasi altro modo in cui puoi spendere quei soldi, ospedali, asili, quello che vi pare, si salvano più vite umane. Spenderli in ulteriore sicurezza nucleare vuol dire solo sprecarli. Ugualmente si può dire, beh, ma stiamo supponendo una parità di consumo energetico, io potrei consumare un po' meno in modo da aver bisogno di un reattore in meno, però costruirli tutti super sicuri. Anche questo abbiamo visto che sarebbe uno spreco, sarebbe sbagliato e produrrebbe a lungo termine più morti, perché, vedete, il consumo energetico correla molto bene con il pil pro capite, e il pil pro capite correla molto bene con il tasso di sviluppo umano. L'aumento della speranza di vita, oltre a vari fattori, diciamo, di medicina, è legato soprattutto all'aumento del benessere, al fatto che possiamo condizionare la nostra casa d'estate e scaldarla d'inverno, per esempio, che diminuisce molto la mortalità. Non avere freddo d'inverno significa avere un sistema immunitario più forte. E quindi anche consumare meno energia, sicuramente, per quell'ammontare, sicuramente produce più di un morto per secolo che avremmo avuto costruendo dei reattori meno sicuri, ma costruendone uno in più. Un'ultima obiezione che si può fare è che io sto considerando solo la mortalità da incidenti nucleari, mentre per fare il confronto con le altre fonti sto considerando la mortalità su tutta la filiera e su tutte le esternalità, ad esempio i morti da inquinamento, i morti da estrazione mineraria, i morti da lavorazione industriale. Tutto questo è vero, però ho anche sovrastimato la mortalità del nucleare di diversi ordini di grandezza. Prima di tutto perché ho assunto che avessimo sbagliato i conti sulla statistica degli incidenti di un fattore 10. Poi ho assunto che tutti gli incidenti siano, come Chernobyl, e ho preso per Chernobyl la peggiore assunzione possibile circa la mortalità. Quindi, evidentemente, se noi andiamo a guardare our world in data, già oggi il nucleare ha una mortalità inferiore a quella dell'eolico e molto vicina a quella del solare, a 0,03 morti per teravattora di energia prodotta. Ma questa mortalità è frutto di una statistica fatta su tutti i reattori, anche di prima e seconda generazione, e che questa mortalità considera anche l'incidente di Chernobyl e anche l'incidente di Fukushima a cui vengono attribuite le morti dovute all'evacuazione, che secondo me è un metodologicamente scorretto, ma lasciamo stare. Quindi, se noi consideriamo invece le tecnologie di terza generazione per le quali non abbiamo una statistica di incidenti perché non ci sono mai stati, ma ci fidiamo degli assessment che sono stati fatti circa la loro sicurezza, i numeri sono questi. Possiamo giocare quanto vogliamo, con ulteriori assunzioni. La realtà è che ai fini fisici, ai fini matematici, tra un tasso di sicurezza del 100% e uno del 99,99999% c'è un sacco di differenza, ma dal punto di vista pratico no. Un tasso di incidenti di un evento ogni 10 milioni di anni e un tasso di incidenti di 0,20% sono assolutamente la stessa cosa dal punto di vista pratico. Quindi ulteriori investimenti in sicurezza nucleare hanno senso se e solo se. Innanzitutto non aumentano i costi, anzi li riducono. In secondo luogo non aumentano i tempi di costruzione o di licensing, anzi meglio li riducono. In terzo luogo se non distraggono risorse dalla ricerca sul costruire reattori più velocemente e più economicamente, o ancora meglio diciamo coadiuvano questo sforzo. Allora può avere senso un investimento ulteriore in sicurezza nucleare. Altrimenti no. Ovviamente c'è un'ultima cosa che si può dire, e cioè ma un reattore con una sicurezza del 100% sarebbe molto più appetibile per il pubblico, convincerebbe molte più persone, toglierebbe un po' di dubbi e quindi magari se ne costruirebbero di più. Vale la pena soffermarsi su questa obiezione prima di andare in chiusura, perché è quella più ingenua a mio avviso. Perché parte dal presupposto che chi contesta il nucleare sia davvero in buona fede, genuinamente preoccupato per la sicurezza, e ovviamente è falso, questa cosa è falsa, perché queste persone già oggi, che il tasso di sicurezza è altissimo, pensano che i reattori nucleari siano identici a quelli di Chernobyl. Cosa vi fa pensare che aumentando quello zero virgola che lo porta al 100% per loro cambi qualcosa? Se non sono in grado di distinguere tra un reattore con un sacco di difetti di produzione e operato male che ha portato un incidente e quelli di oggi per i quali non si è mai avuto un singolo incidente con vittime in tutta la storia del nucleare civile, perché con le tecnologie occidentali non è mai successa questa cosa, se non sono in grado di distinguere tra queste due cose, come vi aspettate che possano percepire il cambiamento matematico di quella componente infinificante che può davvero fare la differenza in termini di sicurezza? Non è così, queste persone sono contro il nucleare non per la sicurezza, e infatti prima si parlavano tanto di sicurezza, oggi ne parlano meno e parlano di economia, sono tutte scuse, la realtà è che sono semplicemente contro il progresso, contro lo sviluppo e contro l'energia abbondante ed economica, perché per loro, che aderiscono al pensiero malthusiano, secondo cui l'umanità è un virus, siamo troppi ed è meglio se ci estinguiamo, beh, per queste persone evidentemente il fatto di poter accendere la luce quando voglio, a tutte le ore del giorno, non solo è un lusso eccessivo, ma è proprio un male, un qualcosa a cui non dovremmo avere diritto, e quindi saranno sempre contro il nucleare queste persone, non gli è mai fregato niente della sicurezza nucleare, come non gli è mai fregato niente del cambiamento climatico. Invece a noi di queste cose frega, e sappiamo che per combattere il cambiamento climatico ci vuole più energia, e non ci servono reattori più sicuri, ci servono più reattori, perché il reattore più pericoloso di tutti è quello che non viene costruito.